Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Nelle Marche in piena zona rossa si viaggia 856 positivi al giorno nel percorso delle nuove diagnosi. In particolare 310 si registrano nella provincia di Ancona, quella più colpita dalla variante inglese. 198 in provincia di Macerata, 111 in provincia di Fermo, 98 in quella di Pesarurbino, 91 in provincia di Ascolipiciano e 48 fuori regione. Il servizio sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati un totale di 7.611 tamponi, 4.633 nel percorso delle nuove diagnosi e 2.978 in quello dei guariti. Il rapporto positivi testati risale leggermente fino a quota 18,5. Così come non accenna a cessare l'aumento del numero di ricoveri covid nelle Marche, che prosegue per il tredicesimo giorno consecutivo. Ora sono 868 più 14 rispetto alla giornata precedente, mentre sono 43 le persone dimesse. L'aumento dei degenti si è registrato quasi totalmente in reparti non intensivi, mentre sono sostanzialmente stabili ricoveri in terapia intensiva e semintensiva, anche perché praticamente pieni. L'ho confermato anche la notizia data ieri sera in anteprima dal sindaco di Fermo nel corso del nostro programma Polis, quella di un paziente fermano ricoverato fuori regione per mancanza di posti letto tra il Murri e le altre strutture regionali. Mi rendo conto di una cosa, che noi siamo in guerra, le cifre lo dicono, le cifre purtroppo dei morti, degli ospedali oggi. Addirittura a Fermo ha dovuto trovare posto fuori regione una persona che doveva andare in terapia intensiva, quindi questo fa capire anche la portata anche delle nostre zone, la notizia mi è arrivata da poco. Diciamo anche i numeri economici purtroppo, sono da guerra, la recessione, il danno sociale.